Non mi fai che la faccia lì, Cristo! Così! Ciao ragazzi, io sono The Lionel e in questo video farò un gameplay su un FPS quindi vi dico già che dovrete avere molta pazienza dato che io non ci ho mai giocato molto spesso a questi tipi di giochi e inoltre giocherò non con PC ma con joystick quindi sono veramente impedita, imbranata, goffa dite quello che vi pare, è il peggio è il peggio, cioè io sono il peggio sono peggio di un koala semi cieco che ha la congiuntivite quindi oltre a essere cieco c'è anche l'occhio gonfi quando miro quindi abbiate pazienza spero di fare un video decente spero che lo sia e mi raccomando se vi piace, lo trovate divertente dato che sclererò molto, molto probabilmente condividete, mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate, fatemi sapere magari anche come poter migliorare dato che sono proprio all'inizio su questi generi di giochi e quindi io vi lascio al gameplay, mi raccomando ciao a tutti 3, 2, 1, via eccoci qua su Prison Broke come cavolo schiena io l'accento l'ho di merda siamo già sotto ho già uno cinico senza aver fatto un cazzo ma perché mi ci metto in quel cavolo esatto, io pure, guarda te ora li andiamo a prendere nel cuore da dietro e ora me, che cavolo me la paghi eh me la paghi, si, si, si me la paghi, si, si, si basta concentrazione 1 e 9, non mi è riuscita la doppia ma tu sai dove cavolo sono? ah no, non lo faccio sono nell'erba nel mezzo ecco ti metto le mine a caso no? così magari ho pulo ci passano sopra un po' nell'erba alta le mezzo percepisco ho ucciso uno con la bomba a caso vedi quanto è potente bombe a caso come l'appetit? è vero io quella dote lì modestamente qui c'è della gente tutta la camera di tutti i bambini li ha ammazzite due stavano mirando ammirando il panorama fratello dog vieni a me garacchia c'è molto garacchia c'è molto vai fratello dog non morì cingalese lassù che ammazza tutti oh uomo maniac mi fanno una paura a me corre un capriolo selvatico sembra dove stanno uno lato di lì e va bene ce l'ho di fronte non lo vedo si mimetizza come un camaleonte va bene va bene ce l'ho di fronte peace peace fratello peace pistola sto sotto di uno e c'è da e quant'è la situazione mi sparano perché però guarda un secondo lì è l'intera guarda l'intera lezzo maleodorante proprio guarda questo li passa via questa cosa io non le posso vedere ma muori riparto dove? non ho capito niente che sono quei tubi blu dove sono i tubi blu? non lo so ma non lo sai ah eccolo qui ma non sono blu quei tubi sono grigi no marroncini ma io sto guardando con i tubi e muoio no ma complimenti è normale in guerra fare questi grandi grandi successi che grande che sono guardo il colorino dove cavolo sono io c'ho paura dietro i cessi ci sono anche i cessi in questa mappa bravo falli fuori oh ascolta io voglio sta camperata qui e voglio ammazzarli il più possibile però non li trovo ecco di bello bello va bene ok sdryo in terra oh merda c'è uno con coltellato me la paghi mi hai ucciso tipo un'ora fa ma me la paghi lo stesso corre svolta svolta ruota ruota certo oh mamma oh mamma qui vabbè ho sparato l'amico immaginario accanto stai salendo gli scaletti perché qui arriva uno e no e non si fa e non si fa non si ammazzano i miei compagni cos'è l'urlo di xia ma è l'urlo di quanto ci muoio tutta la vita qui no non so che cavolo fare è un momento di panico vai muori te compagno no vai muori te compagno del cavolo sei inutile non c'è sto coso ma tu no il nostro compagno è sulla torretta a dormire corri 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 attraverso attraverso manco fossi sulle strisce pedonali che corri cosa che una macchina ti schiaci io mi sto cagando in mano c'è uno sulla torretta dai dai stai zitto non ti vedevo di mo sei nano sei nano cresci cresci esatto mi sembravi un tronco mi sembravi parlo contro il tronco ma che fa ma vai via vai ma sei ridicolo c'è uno che si è buttato la torretta e è morto ok i disperati che si suicidano ho un satcom io non ho paura d'usarlo ho un satcom e non ho paura che fai ma io speravo di farlo uscire oggi c'è uno laggiù dove? è laggiù le frische le frische è là è là è là un caricatore per ammazzarlo ma è stata bella ora scendo scendo volevo scendere mi fate scendere no no tu dovevi morire era dimostrato scientificamente che dovevi morire è alleato neutralizzato me la credo e ora muori e ora muori basta se non ci sa nessuna tua toretta boh no ma c'è uno qui io mi cago in mano cioè cos'è cos'è stato identifica no arriva dietro vabbè ma ho la mira di un veramente non lo so di un lombrico senza braccia cioè lombrico è la banda delle braccia c'ha le zampe non lo so c'ha avrà qualcosa i peli ma che ne so non mi fareste domande che vado in crisi ma muori no ma muori assist leggo assist e assist io faccio gli assist nella scuola c'è i bomber no in quei calci c'è l'assist il portiere io faccio gli assist vabbè l'assist girl yeah ma come fa a vederlo facciamo un libo di mezzo ciao ciao